Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Little Dumpay. Oggi ritornano le sponsorizzazioni, infatti sponsorizzo Slavsoul. Slavsoul purtroppo non ha contenuti e quindi vi invito solamente a iscriverti al suo canale sperando che inizi a caricare i video. Ha un unico iscritto che sono io e sendo che non so cosa pubblichi, spero che inizi a caricare un po' di video, almeno capite un po' che tipo di video. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando se volete essere sponsorizzati basta che scrivete nei commenti hashtag sponsorizzami, lasciate un piace, iscrivetevi al canale, seguitevi sul mio profilo Instagram, Twitter e fatemi le domande sul mio account ask.fm eccetera eccetera e le cose che vi ho portato e vi ho detto, ciao ragazzi e al prossimo video! iscriviti al canale